Ciao amici di Italia Top Games, siamo qui per un nuovo unboxing di un prodotto che ci piace parecchio Creative Outlier, cos'è Creative Outlier? Un headset, sembra solo un paio di cuffie ma in realtà è compreso un microfono integrato ha un lettore mp3 integrato con scheda sd, possiamo sentire musica senza bisogno di alcun dispositivo ma ovviamente potremo collegare qualsiasi tipo di dispositivo da una console a un telefono, a un tablet, a un pc tramite collegamento via cavo usb oppure tramite cavo jack o anche senza fili con bluetooth e poi c'è anche un'app molto carina per chi usa android, un'app che tramite appunto collegamento bluetooth e vi segnala e vi trasforma i messaggi, le notifiche in messaggi vocali che sentirete direttamente nelle cuffie poi c'è una particolarità estetica che andremo a vedere successivamente adesso cerchiamo ogni volta di aprire la confezione se ci riusciamo che spesso queste confezioni sono veramente difficili da aprire un vero unboxing appunto ecco qui, tutto vero, tutto in diretta, vabbè quando ve lo vedrete noi lo avremo già registrato ma in questo momento è tutto in diretta eccolo qui dai che ci siamo quasi eccolo oh le, andiamo un po' se viene via oh, eccole qui allora queste sono le cuffie guardate quanto è difficile capire questa confezione beh, è giusto pure tenere tutto in massima sicurezza quando ci sono le spedizioni dopo andremo a vedere tutti i chiavi per scoprire di cosa si tratta ma prima andiamo subito a vedere le cuffie le cuffie sono leggerissime, vi assicuro è incredibile l'effetto che fanno sono apribili, allungabili eccole qui qui troviamo lo spazio per la micro SD per inserirla e quindi ascoltare musica senza bisogno di alcun dispositivo qui c'è il cavo jack e c'è anche la presa USB i comandi di volume questo dovrebbe essere il comando per spostare la traccia andare avanti e indietro e poi c'è una cosa molto carina esteticamente come vedete queste due fasce sono arancioni ma se vorrete le potrete cambiare con altri colori qui abbiamo rosa, bianco, verde e giallo potrete anche, come dire, farle intermittenti una gialla, una bianca, una rosa potrete fare come vorrete allora, oltre alle cuffie che come potete vedere sono veramente carine forti, molto, sono fatte appunto tale per mettersi al meglio sulla testa, sono veramente leggere questo non lo potete sapere ma fidatevi di me c'è qui pure la bella scritta upline vediamo cosa contiene qui c'è un cavo sufficientemente lungo jack per attaccarlo direttamente a una fonte sonora come uno smartphone, un lettore mp3 quest'altro cavo invece ecco, vedete, è veramente fornito di tutti i collegamenti e un cavo micro usb, usb abbiamo poi il foglietto con tutte le istruzioni una rapida guida, un quick start con tutte le funzioni come potete vedere qui ci sono tutte le possibilità che offre perché abbiamo detto sono ben quattro le possibilità di connessione jack, usb, micro usb che possiamo vedere qui eccola qui e poi la possibilità tramite bluetooth ecco qui anche abbiamo qui la possibilità di selezionare direttamente dalle cuffie la fonte sonora che può essere bluetooth usb o il lettore mp3 integrato abbiamo poi la garanzia di creative e quindi abbiamo visto tutto ecco che poi alla fine è molto utile questo la custodia una volta aperta può essere riutilizzata per inserire le cuffie e tutti i vari accessori bene questo era l'unboxing di creative outlier ecco qui vediamo tutti i colori questo era l'unboxing di creative outlier nei prossimi giorni sul nostro sito Italia Top Games realizzeremo anche la recensione spiegheremo tutte le specifiche tecniche di creative outlier che come prima impressione ci è piaciuto molto appunto per una leggerezza fuori norma in senso positivo ovviamente vi aspettiamo di nuovo qui sul canale youtube di Italia Top Games sul nostro sito ovviamente www.italiatopgames.it e su tutti i nostri social ciao